Siamo con una bravissima cantante spettacolare che si chiama Luisa qui a Via del Corso, spesso ci fermiamo a sentirla, tu adori Adele e ce la fai amare ancora di più. Certo, certo, è il mio idolo. Tu sei bravissima e appunto te ne intendi di voce, di canzoni, di musica. Domani c'è Ed Sheran, tu stavi quasi per cantare una sua canzone? Sì, sì, domani la farò completamente. Come si intitola? Chi chiede? La canzone non te la ricordi. Però mi dicevi, secondo te, chi preferisce a Sanremo? Tra Chiara Gariazzo, Annalisa Scarrone, Lorenzo Fragola, Il Volo? Annalisa. Annalisa Scarrone, piace. Ha un bel timbro. Un bel timbro di voce. Sì, sì. Però forse per lavoro non hai potuto seguire molto Sanremo, no? Certo, sicuramente. Ti piacerebbe a te per esempio essere a Sanremo un giorno? Certo, un giorno. Vogliamo far vedere un tuo cd perché lei è veramente bravissima. Facciamo vedere il cd di Luisa. Sì. Luisa Constantine. Constantine, sì. Vedete, molti di voi già la conoscono perché avete il corso da un anno, credo, vero? Sì, sì, più di un anno. È veramente bravissima. E il tuo repertorio va da Adele, poi... Bruno Mars, John Legend, Saintee Hit, tutta la musica... Tutta la musica Soul. Ritement Blues, no? Sì, sì. Bella fresca, bella interessante. Va bene, allora ti ringraziamo. Ecco, il cd te lo ridò e grazie di tutto. In bocca al lupo. Magari... A Sanremo 2016. Speriamo. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie mille. Ciao.